e buonasera a tutti i cripto curiosi andiamo a vedere tre presale tra cui la prima che è dogeverse ragazzi che sta scuotendo veramente un numeroso successo tra i vari social ormai se ne parla in ogni dove in ogni articolo andiamo a vedere tre presale che ho trovato in giro per il web e ve le porto qui sul canale molto interessanti naturalmente al primo posto come dicevo prima dogeverse perché sta facendo veramente rumore all'interno di social e web su varie testate giornalistiche prima iniziare ragazzi però vi ricordo che queste sono presale ok super super rischiose perché poi effettivamente non sappiamo che cosa succede succederà quando verranno listate se verranno listate dogeverse secondo me ragazzi c'è effettivamente un quasi sicuro che verrà listata perché ne parlano in ogni dove è naturalmente questa presenza sta finendo ok quindi stiamo all'ultima fase di presenze riguardo dogeverse però naturalmente anche per le altre c'è da fare molta attenzione perché le presenze naturalmente sono rischiosissime poi effettivamente non sappiamo se che se e che fine faranno questi asset all'interno dei vari listing quindi quando vengono immesse nel mercato comunque ragazzi vi lascio tutti i link in descrizione di questi progetti non andate a pescarli in giro nel web perché sono alcuni molti alcuni sono dei veri e propri scam cioè ovvero se voi andate a comprare la moneta e quant'altro poi non effettivamente non avete la proprietà di questi token detto ciò vi ricordo vi lascio anche il link degli exchange che uso io lasciate un bel like al video iscrivetevi al canale partiamo subito andiamo a vedere dogeverse che è riuscita a raccogliere oltre 13 milioni di dollari in questa fase siamo nell'ultima fase di presenze che cos'è dogeverse dogeverse è un token multi chain come ce lo spiega anche qui sulla loro community twitter ragazzi che conta questa nuova cosa un dato anche molto interessante 15 1200 follower per essere una presa il ragazzi non sono un'enormità ma non sono neanche poche ok sono un numero sostanzioso insomma è una è un token multi chain sul rete tirium bnb polygon solana avalanse e base ok quindi abbiamo queste 6 cene ragazzi diciamo che è un una meme interessante perché effettivamente possiamo trovare diciamo questa meme su queste varie chain in sostanza qui abbiamo la possibilità naturalmente di andare a fare un acquisto in ethereum us dt carta collegare il wallet abbiamo la possibilità di collegare wallet connect best wallet meta mask coinbase wallet ok lo troviamo un prezzo dello 0,000 31 millesimi di dollaro quindi un dogeverse ad ora in preselle in quest'ultima fase vale questo abbiamo il light paper abbiamo l'audit ragazzi qui possiamo anche andare a prendere già l'indirizzo del contratto di questo token vediamo che c'è un low risk comunque sia l'audit di coinsult ci fa a dire che il token sembra essere safe se andiamo avanti abbiamo dodge diventa multi chain forse anche questo abbinamento a doge diciamo può essere buona questa cosa qui perché effettivamente diciamo il meme molto calino e diciamo può essere effettivamente il nuovo dodge multi chain in sostanza questo è dogeverse andiamo anche sulla community telegram troviamo quasi 10 mila membri ragazzi naturalmente per essere una presa il non sono pochi membri che sono all'interno di dogeverse ora andiamo a vedere la tokenomics cosa molto importante allocazione abbiamo della prevendita il 15 per cento per lo staking il 10 per cento dopo andiamo a vedere anche lo staking fondi del progetto 25 per cento liquidità 10 per cento marketing 25 per cento fondi per l'ecosistema 10 per cento exchange 5 per cento quanto riguarda lo staking di dogeverse abbiamo in totale ad ora in stake sono detenuti 23 milioni 557 23 miliardi 557 milioni 794 mila 603 dogeverse con ricompense stimate del 68 per cento e qui abbiamo la supply in sostanza nei vari periodi seconda presa il ragazzi biener ai un po cani un po via un po vuster questo progetto simpatico diciamo che mira a diventare un bot di intelligenza artificiale per andare a operare su dei market makers e andare a fare strategie in modo automatico questa più o meno è la vision di quello che ci va in sostanza a dire qui ora non andiamo a vedere tutto quanto perché naturalmente questo meme token vuole ambire a fare ciò ok stiamo parlando sempre di presale quindi ad alto rischio comunque sia questo token questo asset è riuscito a raggiungere un miliardo 475 1.475.024 usdt anche qui naturalmente abbiamo la possibilità ethereum andare a fare comprare questo token ethereum usdt in bnb o in carta naturalmente possiamo connettere il nostro portafoglio wallet connect metamask portafoglio coinbase eccetera 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 andiamo a vedere la community conta 7230 membri su x diciamo che non sono ho visto altri progetti in sostanza dove effettivamente altre peselle avevano 1000 iscritti 2000 iscritti possiamo dire che un pochettino di iscritti ce l'ha comunque sia sempre attiva l'ultimo post è di 22 ore fa e qui abbiamo anche il white paper del progetto dove possiamo andare a vedere la tokenomics cosa molto importante abbiamo il 30% stanziato per la presale 20% di staking 20% community rewards 10% dex checks liquidity 20% marketing total supply di 69 miliardi di token anche qui abbiamo la possibilità di andare a fare lo staking anche qui abbiamo la possibilità di andare a fare lo staking andiamo a vedere le rewards stimate che sono veramente altissime ho fatto un video in precedenza dove queste rewards erano abbiamo il 11 miliardi di micro di come vi dicevo anche l'alta la Wayneノia non sul di 1 miliardo 599 milioni 160 nel 269 token abbiamo una community anche su telegram di 3.021 membri vedremo questa presa il cosa potrà fare se effettivamente può andare incontro a un mercato roseo terza e l'ultima presa il ragazzi se alana uscita pochissimi giorni fa che cos'è se alana è questa foca semplicemente è un meme sulla chain di solana e qui ci va a dire che cos'è solana e quant'altro in sostanza è questa simpatica foca grassa seduta e questa presa il ragazzi è molto semplice effettivamente diciamo che ci sono poche informazioni possiamo andare a collegare phantom o soulflare che praticamente sono dei decks che operano sulla chain di solana se andiamo a vedere la community su twitter conta 1500 follower naturalmente molto pochi è nata veramente ecco nel mese di aprire ora il giorno specifico non lo riporta qui non riusciamo a trovarlo comunque questa foca qui ragazzi che è molto simpatica naturalmente andiamo a vedere quanto è riuscita a diciamo a raccogliere sono stati raccolti 373 389 usd naturalmente ragazzi sono pochi perché è appena è appena uscita quindi non qui non c'è la sezione staking quindi non si possono andare a mettere i token in staking e abbiamo veramente pochissime informazioni naturalmente sempre meglio andare sul decentralizzato se uno se uno vuole partecipare ricordando sempre i rischi associati ma è andare direttamente per esempio su soulflare o phantom e andare effettivamente a fare l'acquisto ok quindi collegare il nostro wallet eccetera 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 naturalmente come vi dicevo prima soprattutto per se alana che è uscita veramente da poco magari è sempre meglio visionare come si sviluppa il team di sviluppo che c'è dietro come diciamo come riesce a portare avanti anche il canale twitter che è molto importante per queste meme quindi magari avere un pochettino un occhio di riguardo in più per questo asset perché effettivamente ragazzi se gli altri sono rischiosi questo lo è ancora ancora di più quindi naturalmente questo video non è né un consiglio di investimento né finanziario né in alcun altro tipo fate sempre le vostre valutazioni detto ciò siamo arrivati a fine video vi ricordo di lasciare un bel like il link di questi progetti vi lascio in descrizione seguitemi sul canale noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti